Eccoci qui, buongiorno, bentrovati, spero che abbiate recuperato un po' di energie, un po' di sonno dopo una notte fantastica, indimenticabile, che rimarrà, penso, nei più bei ricordi di tutti voi, anche se non si è vinto nulla di concreto, come un trofeo, però diciamo che è stata ristabilita la supremazia cittadina che non è poco, è stato vendicato il 2003, il 2005 e anche lo scudetto così lasciato andare, buttato un po' l'anno scorso e quelle lacrime alla fine di Inter-Sandoria hanno avuto una vendetta sportiva, però non è finita qua. Come avevo predetto ancora quando sono stati sorteggiati i tabelloni, sarà il Manchester City a giocarsi la Coppa con l'Inter a Istanbul il 10 di giugno, partita totale, distrutto il Real Madrid, che ha avuto un unico sussulto, la traversa di Kroos e poi è stato annichilito da il pressing asfissiante di Guardiola, che sarà il primo pericolo a cui bisogna trovare un rimedio e poi quell'extraterrestre di Oland che però ha bucato tutte e due le sfide con Real Madrid, strano, anche perché ha trovato un Courtois che ce lo ricordiamo bene dall'anno scorso, un portiere clamoroso, top al mondo, come sottolinea il teccato più famoso di YouTube e poi c'è quella qualità da Bernardo Silva, De Bruyne, Julian Alvarez appena entrato fa gol, però attenzione caro Gallagher, cari fratelli Gallagher, ricordiamo a tutti che il City ha un'ossessione, è l'ossessione del City che non ha mai vinto una Champions League, l'Inter ne ha già tre, in bacheca tutta la pressione dopo le montagne di milioni, anche miliardi investiti, è assolutamente sulla squadra inglese e sulla sua proprietà araba, quindi ce la si giocherà, ce la si giocherà, partita secca e come ha detto Guardiola ieri non è il massimo trovare una squadra italiana che sa come metterti la museruola, sa come bloccarti con Simone Inzaghi e il suo staff che hanno già iniziato a studiare la partita, però ci sarà tempo per arrivarci e studiare le contromosse, la formazione, tutti mi chiedete chi faresti giocare? Difficile dirlo adesso, mancano, siamo per il conteggio dei giorni al 18 maggio, quindi quasi un mese manca, poco meno, possono cambiare tante cose, bisogna vedere la condizione, comunque io me la giocherei con Brozovic e Lukaku dal primo minuto, anche se siamo arrivati a questo punto con quel turnover che si è rivelato il marchio vincente di Simone Inzaghi che è riuscito anche a studiare a tavolino i cambi, le alternanze, il turnover, riuscendo ad arrivare in maniera impensabile a un traguardo così storico che hanno raggiunto solo altri tre allenatori all'Inter come Elenio Herrera, il mago tre volte con due vittorie su tre, Gianni Invernizzi e Giuseppe Murigno, quindi per tutti ancora gli Inzaghi Out forse dovreste rivedere le vostre valutazioni, e questa c'è una distinzione però da fare, no? Perché nessuno vuole, parla di patenti o quant'altro, però di rispetto, perché le critiche sono il sale della vita, ci mancherebbe che non ce ne siano, ma per tutti quelli che l'hanno insultato, l'hanno mancato di rispetto, gli hanno detto di levarsi dai coglioni, ci dissociamo da queste anche volgarità, le hanno dette di tutti come se fosse un incapace, quelli sono dei pupazzi, pagliacci, che non hanno nessuna vergogna a salire sul carro, per chi ha fatto le sue critiche, ma le abbiamo fatte anche noi quando le cose non funzionavano, anche per cercare di aiutare a trovare una strada, una via di uscita alle difficoltà, ma ci mancherebbe altro, però chi gli ha mancato di rispetto e non gli ha chiesto neanche scusa, la trovo veramente una cosa vergognosa, tutto quello che abbiamo assistito, un massacro dai fintinteristi, dai nonni con i filtri, ma tanti cialtroni vari, che le hanno dette di tutti i colori, senza rispetto per il lavoro di chi ci mette comunque l'anima, ma poi gli errori li facciamo tutti e ci mancherebbe altro, però il rispetto e l'educazione non devono mai mancare, anche se sei arrabbiato che non sei contento delle cose o dei risultati, e adesso comunque ha ragione lui, sei arrivato in finale di Coppa Italia, in finale di Champions League, sei arrivato tra le prime due d'Europa, comunque vada e te la giochi con Manchester City, squadra di Marziani, ma è sempre una partita in cui può succedere di tutto, le quote sono totalmente a favore degli inglesi, addirittura l'Inter mi dicevano che in serata ieri è arrivata a 7, senza rispetto, un motivo in più per andare a casa di Cialanoglu e tentare l'impresa. Iscrivetevi al canale che continua a volare, dobbiamo a questo punto arrivare a 50k nel più breve tempo possibile, adesso parliamo del Megascoop di ieri, avrei dovuto fare un'edizione straordinaria, ma non ce n'è stato tempo, e abbiamo anticipato tutti per la dimostrazione che qui ci sono notizie vere, verificate addirittura prima di Sky, Gazzetta, Fabrizio Romano, vi abbiamo detto alle ore 13 su Sport Mediaset Italia 1, che è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo di Alessandro Bastoni, fino al 2028, quindi con un contratto pesantissimo, blindato Bastoni, mancano solo le firme e l'ufficialità, è stato definito l'accordo con un contratto a salire che parte da 5 milioni, quindi con un bel aumento iniziale, che arriverà negli anni a livello dei top della rosa, quindi a superare i 6 milioni, per non rischiare uno screener bis come in tanti paventavano, avevano paura potesse accadere, concorrenze inglesi varie dello stesso City, del Liverpool, si sono fatti diversi nomi di club pronti a mettere sul piatto cifre pesantissime, però l'Inter riparte da un interista vero, che non ha avuto il minimo dubbio, ve l'avevamo detto subito quando c'è stato l'incontro in sede con il suo agente, che c'era grande ottimismo, anche se pure in quell'occasione lì, vi ricordate, c'era chi aveva fatto filtrare pessimismo e varie preoccupazioni, ma vi abbiamo sempre guidato nella maniera corretta, cosa ha peraltro successo anche per Screener, però come vedete, poi c'è chi disattende le promesse che fa, e si mette d'accordo con altri, e qui adesso c'è un accordo ben definito, che verrà vidimato e ufficializzato nel minor tempo possibile, questo grazie agli ulteriori 16 milioni, più vari bonus degli sponsor raggiunti, quindi con questa finale di Champions conquistata, si riparte da Alessandro Bastoni per farne un cardine per il futuro, quindi scelta molto importante, e poi a ruota adesso arrivano tutti gli altri rinnovi, quindi Dzeko, quindi a 5, De Vrij a poco meno di 4, e soprattutto Cialanoglu a 6, cioè il suo agente in giro per Milano, a definire anche lui un'operazione fondamentale per il futuro, per blindare anche Cialanoglu, che è scadenza a 2024, a 7,25 mi scrivono adesso la quota dei bookmaker, lasciateli pensare, e magari anche farsi adesso una scommessina, anche se siamo contrari però, alla loro facciazza per mandarli in tilt, non sarebbe male, vista la poca considerazione che hanno nei confronti dell'Inter, attenzione che però, sbloccati i rinnovi, dalle parole di Zhang, che ha sottolineato come in Zaghi, mandando anche una stillettata a Conte, alle sue vedove, è l'unico che non gli chiede i giocatori in continuazione, e starà all'Inter per molti anni, attenzione che è in arrivo anche un rinnovo di in Zaghi, perché non si comincia mai, almeno Marotta soprattutto, non lo fa mai, l'abbiamo visto l'anno scorso, l'abbiamo visto anche al tempo di Spalletti, con l'allenatore in scadenza, però qui bisogna vedere anche il livello Sassolini, nelle scarpe di in Zaghi, a che punto è, e come si finirà la stagione, adesso c'è grande esaltazione, però intanto dobbiamo vedere come finisce mercoledì prossimo la Coppa Italia, l'accesso alla prossima Champions League, per cui adesso si è sistemato tutto, ma mancano ancora quattro punti da conquistare nelle ultime tre giornate, con Napoli, Atalanta e Torino, avversarie una più difficile dell'altra, con due trasferte, con questa grande stanchezza che c'è nelle gambe, le condizioni di Mkhitaryan da verificare, c'è un po' ottimismo, però si attendono gli esami strumentali nella giornata di oggi, perché sembra più una contrattura che un'elongazione, e sarebbe il meglio, perché in poco tempo potrebbe tornare a disposizione, avete visto la sua importanza anche nell'ottica di un turnover, che adesso bisognerà fare per forza, cominciare da Napoli, ruotare, continuare ad alternare, anche se la sfida è importantissima, e potrebbe essere già anche decisiva, per sistemare il campionato, e poi concentrarsi su Coppa Italia e Champions League, tutto da vedere, quindi possibile anche il rinnovo di Inzaghi, come vi abbiamo messo in copertina, adesso poi, chiaramente blindato l'accesso alla prossima Champions League, si potranno sbloccare anche diverse operazioni in entrata, cominciare da Retteghi che l'Inter ha bloccato, ci saranno colloqui con il Chelsea per il futuro di Lukaku, che, come ha detto Marotta, ci sono 6 su 10 possibilità che possa rimanere, però bisogna rinegoziare l'accordo, Buchanan per la fascia destra, però c'è un Dumfries in ascesa, che è tornato a livelli mondiali, che ha fatto due grandi derby, e che per prendere Buchanan devi vendere, e anche lì se ne parlerà col Chelsea, con Manchester United, ci sono estimatori che saranno pronti anche a vedere la vetrina della finale di Champions, che potrebbe far lievitare ulteriormente i prezzi e le valutazioni sui giocatori dell'Inter, e poi c'è uno Nana, recordman della Champions, sotto clean sheet, con quello al Milan, che piace a Chelsea, Manchester United, al Barcellona, e bisogna capire, su che sì, vi ho sempre detto che ero abbastanza diffidente, ma anche perché adesso Brozovic si è ripreso in mano l'Inter, sembrava molto distante, adesso è tornato a essere uno dei leader. Poi bisogna trattare con la Lazio la permanenza di Acerbi, che direi che se l'è meritata, anche se 4 milioni per un giocatore della sua età sono troppi, si cercherà un accordo per la metà e essere così a posto, e poi vedremo che succede. Ora direi di leggere un editoriale di Beppe Severnini sul Corriere della Sera, che chiede scusa a Inzaghi, visto che c'è chi non lo vuole chiedere, mi sembra che faccia delle analisi, un'analisi che, vabbè, noi abbiamo già fatto da tempo, però visto che lui era uno dei più accaniti, anche critici, nel periodo delle 11 sconfitte di campionato, mi sembra un bel modo per cominciare già dal titolo, che noi abbiamo già messo in diversi nostri video. Facciamo le scuse a Inzaghi. Leggo. Dobbiamo le nostre scuse all'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, detto Inzaghiino, per via di un fratello maggiore milanista, ma lui deve provare a capirci. La finale di Champions è un sogno a occhi aperti. L'Italia era piena di nerazzurri che si davano pizzicotti a vicenda per controllare di essere svegli, essendo una squadra pazza, deliziosamente pazza, ma il quadro clinico non si cambia in pochi mesi. L'Inter ha collezionato 11 sconfitte in campionato, una serie di prestazioni eccellenti in Champions, fino al biglietto per Istanbul, senza contare la finale di Coppa Italia, e noi aggiungiamo anche la Supercoppa vinta in un derby d'Arabia contro il Milan, che non è mai poca cosa. Avremmo sottoscritto una stagione del genere, si chiede Severnini? Certo che sì, anche se c'è qualche cialtrone che dice di no. Forse non ha realizzato ancora che siamo in finale di Champions League. Quella vista in campo contro il Milan, Eusausto, ma con lo scudetto sulla maglia, è una squadra compatta, coriacea e combattiva. Merito dell'allenatore o dei giocatori? Fino a due mesi fa molti dicevano merito dei giocatori, quelli dell'autogestione. Nei grandi appuntamenti trovano da soli la motivazione nelle partite di campionato, quelle più semplici apparentemente perdono concentrazione e l'allenatore non è capace di fargliela ritrovare. Beh, dobbiamo rivedere queste convinzioni. Forse, senza quella strana pausa tra il 10 marzo e il 15 aprile, un punto in cinque giornate, ma proprio anche quando si è fatta quel richiamo di preparazione, la squadra non si sarebbe presentata così pimpante agli appuntamenti decisivi, come vi ho sottolineato sempre. Inzaghi ha calcolato tutto oppure è stato fortunato? Non si sa e non è importante. Calcolo e fortuna sono due virtù in certi mestieri. Alcune scelte col senno di poi appaiono mirabili. La promozione di Mkhitaryan, Acerbi e Onana. La consacrazione di Di Marco, gli spostamenti di Darmian e Cialanoglu. Tutte mosse non scontate. L'attesa paziente di Lukaku, Brozovic e Dumfries. Qui la fortuna non c'entra, resta un fatto magnifico per chi sogna in nero azzurro. Nel 2003 l'Inter uscì in semifinale contro il Milan per due pareggi e nel 2023 contro i Rossoneri. Passa in finale di Champions con due vittorie. Un circolo si chiude e molto merito va Simone Inzaghi con la sua aria filosofica, la sua educazione e il suo autocontrollo ansioso. Ci ha spiazzato tutti. Continui a farlo, per favore. Sottoscriviamo, anche se noi siamo sempre stati difensori estrenui del lavoro e del rispetto e dell'educazione, come vi ho detto a inizio video. Poi, gli errori li abbiamo detto, ripetuto allo sfinimento. Li fanno tutti, li ha fatti Simone Inzaghi, li hanno fatti i giocatori, li ha fatti la proprietà, li ha fatti la dirigenza, però siamo nel periodo, direi, più ricco che fa veramente concorrenza alla migliore Inter di sempre. Perché comunque hai vinto uno scudetto, hai vinto la Coppa Italia che adesso ti vai a rigiocare, due supercoppe italiane, due secondi posti in campionato, che potrebbero diventare tre, una finale di Europa League persa da Antonio Conte e una finale di Champions League da giocare con tutti gli sfavori del pronostico, ma bisogna scendere in campo e spesso gli underdog sono capaci di imprese impossibili e quindi noi andiamo avanti e cercheremo di raccontarvi tutto e di portarvi a Istanbul con noi, biglietti, volo, hotel, tutto già fatto e pagato, siamo pronti per la trasferta turca e come vi abbiamo fatto vivere qualsiasi tipo di situazione da ogni angolo del mondo, dall'Arabia Saudita a Pilsen, da Malta a Barcellona, da Monaco di Baviera agli ultimi derby a Milano dove non ci siamo dovuti spostare ma che sono stati i più importanti e sentiti e siamo pronti a farlo ancora adesso ci saranno 20.000 biglietti che l'Inter metterà in vendita probabilmente anche con dei pacchetti con il volo hotel e forse Pullman vedremo quale sarà la decisione che ancora non è stata presa probabilmente verrà aperto San Siro per tutti quelli che vorranno vederla insieme ai fratelli con un maxi schermo che probabilmente ci sarà anche in Piazza Duomo vedremo adesso anche le decisioni che verranno prese e aspettiamo e vediamo che cosa ci riserverà il futuro sicuramente non è una stagione di M come sosteneva qualche cialtrone fino all'altro ieri pomeriggio senza il minimo rispetto di tutto quello che è stato fatto da questa proprietà da questa società da questa dirigenza da questo allenatore da questa squadra a cui vanno i complimenti a un passo veramente dal sogno ci si gioca tutto in 90 minuti ma si è tornati a una finale di Champions che non è cosa che è successa molto spesso nella storia dell'Inter e qui ci siamo adesso è chiaro che saranno tutti pronti a riscendere dal carro se non dovesse andare bene ma non cambia quello che si è riusciti a fare questa è storia storia dell'Inter comunque vada e speriamo che vada bene perché ce la si può fare sicuramente un po' di vostri messaggi spero di non commuovermi come ieri se no poi mi prendete in giro andiamo a leggere i più quelli con più like e continuiamo a far volare il canale iscrivetevi ditelo agli amici dobbiamo arrivare a 50k magari prima della finale di Champions lo so che è impossibile ma proviamo in questa missione impossibile di arrivare a 50k come siamo arrivati a 40k prima del derby contro il Milan proviamoci e poi iscrivetevi alla pagina Facebook su cui faremo un sacco di novità al gruppo Telegram Marco Barzaghi Inter scaricate Telegram e vi unite al gruppo cercando Marco Barzaghi Inter e poi tutti gli altri social e non dimentichiamo il nostro sito che va avanti grazie al vostro aiuto al vostro sostegno ai nostri abbonati che sono sempre presenti e non ci abbandonano mai forza adesso con i vostri messaggi grazie a squadra e allenatore per questo traguardo eccezionale ci avete regalato un sogno un Michael Nicky continuiamo a sognare a occhi aperti Arianna grandi grandissimi tutti ci hanno regalato lacrime emozioni batticuore gioia e orgoglio quello stesso orgoglio che mi rende da sempre fiera di essere una tifosa nera azzura road to Istanbul e ci sarà una sezione sul nostro sito marcobarzaghi.com dedicata proprio alla rotta su Istanbul con tutte le ultime novità però diciamo che la carichiamo a dovere da settimana prossima perché adesso il road è tu Roma prima con tappa Napoli non dimentichiamo nessun tipo di appuntamento perché veramente si può rendere straordinaria questa stagione ci apprestiamo a vivere due finali di Coppa Valerio in gara su tutti i fronti con una squadra che ti rende orgoglioso di tifare questi colori Fallen Blue Angel commosso come nemmeno con lo scudetto di Conte ero a Barcellona Madrid nel 2010 questa vittoria la rivincita del 2003 del 6 a 0 con gol di Comandini di tante altre occasioni con il Milan le mie scuse in zaghi per le critiche ha dimostrato di essere degno di questa panchina le scuse vi ho detto però le critiche ci stanno per gli insulti il levati dai coglioni e tutto quanto è stato detto senza rispetto per il suo lavoro suo del suo staff e di tutti quei cialtroni che ci auguravano anche le peggio cose da cui ci dissociamo da infarti e ictus e quant'altro perché difendevamo Simone Inzaghi e questa è anche un po' la rivincita del nostro canale del nostro modo di fare informazione del nostro modo di fare anche Youtube con educazione e rispetto hai detto una cosa che mi rende orgoglioso di essere interista a prescindere dal blasone della nostra beneamata portare la sciarpa di chi non c'è più in suo onore e nella sua famiglia è un grandissimo gesto noi tifosi interisti siamo diversi andiamo sempre oltre all'amore sconfinato per questi colori mi ha scritto anche il nostro amico che mi vuol mandare la sciarpa scrivimi su Instagram che ti rispondo ti do il modo per mandarmela e così la portiamo a Istanbul sicuramente la terrò anche addosso quante emozioni Marco che soddisfazione sbatterli fuori con due vittorie Giovanni anziché due pareggi come vent'anni fa possiamo archiviare lo scudetto buttato via lo scorso anno proviamo a scrivere un'altra pagina di storia Massimiliano grazie ragazzi al mister per le emozioni che ci stanno regalando ragazzi non so qualcuno non ha ancora realizzato vi rendete conto che l'Inter è in finale di Champions League quelli che parlavano di mercato da due col piattino dove sono palesatevi fate le vostre scuse a quanto pare eravamo solo io Lukaku e Cialanoglu a crederci Antonello lo scrivo qui da ottobre manca l'ultima partita cosa vogliamo dire a Inzaghi ha sempre ragione lui Enrico che goduria che pace che serenità anche se stanotte non ho chiuso occhio mi sono rivisto tutti i canali YouTube preferiti volevo continuare a godere ringrazio tutti i giocatori e società proprietà per questo traguardo che rende loro onore grazie Marco per esserci sempre comunque per me che sono un tuo amico lontano ma vicino grazie a te Enrico a tutti voi che siete la mia famiglia abbiamo soltanto eliminato una delle tante provinciali lombarde Mario la gloria ci aspetta a Istanbul per ora ringraziamenti alla proprietà cinese Applausi Inzaghi che con la forza dei numeri ha fatto ricredere tutti me per primo Leonardo squadra gruppo di amici uniti che non mollano un centimetro pronti a ripagare l'amore dei tifosi questa è la nostra forza crediamoci tutti insieme grazie ragazzi ci avete regalato una serata magnifica Giordano Sandro Giordano Massimo Cattaneo è incomiabile il tuo lavoro ma soprattutto l'educazione e il rispetto che infondi nei tuoi video esempio incredibile in un mondo malvagio e maleducato grazie Massimo Cattaneo il giorno dopo ancora più bello Andrea Ravelli grazie ragazzi grazie mister grazie interisti grazie Marco per i contenuti ieri San Siro era una bolgia ancora andate a mettere un like e a visualizzare il video da San Siro quello con in copertina Chiara Ferragni che ringraziamo ancora che vi saluta e fatelo arrivare al record abbiamo già superato i 35.000 cerchiamo di arrivare a 50.000 dai anche lì Sette Nanetti che bella soddisfazione vittoria di valore inestimabile che ricorderemo negli anni a venire tutti bravissimi orgogliosi dei ragazzi società che spesso viene criticata che invece sta sempre a lottare per traguardi ambiziosi adesso ce ne sono altri da raggiungere partita dura intensa a Cerbi da fargli un monumento bravi tutti a Cerbi mania grande Simone ci ha portato anche in finale di Champions League più forte delle critiche di tutti un abbraccio dalla Romagna nera azzurra devastata dall'alluvione mandiamo un abbraccio gigante a tutti quelli che stanno soffrendo per questa alluvione non solo in Emilia Romagna ma nelle Marche dappertutto quelli che sono in difficoltà siamo sempre qui al vostro fianco se avete bisogno di aiuto chiedetecelo e cercheremo sempre di farci in quattro Paolo Gangemi che notte elettrica che ho trascorso complimenti a tutti serata memorabile è un po' ci sono quattrocento cinquecento messaggi ringrazio anche tutti gli abbonati Gianmarco Milanato Larita Anthony che sono sempre qui al nostro fianco e ci danno la forza di andare avanti grazie ancora di cuore a tutti voi Fabio Canni Tony Sanna siete veramente tantissimi dovrei fare un video solo per rispondere a tutte le vostre domande ma poi ci pensiamo stasera ore 23 in live mi raccomando sul gruppo Telegram poi mi mandiamo sempre i link della live Pino Prof e tutti gli altri che sono Michele Madrid insomma siamo una famiglia che continua a crescere velocissima rassegna stampa perché ci siamo dilungati Corriere della Sera Lautaro lui sa come si fa l'Inter se fida l'argentino spietato le grandi sfide può far del male al City attenzione alla crisi Milan con Maldini e Pioli sotto accusa e a rischio non possono fallire l'accesso alla prossima Champions City da paura vai Inter è la copertina della Gazzetta pep show che sinfonia Carletto Travolto Real Capo è mai in partita l'Inter aspetta i marziani del City bene Marciniac pep prove di perfezione Guardiola Albacio una Champions da vincere ma occhio all'Inter ci vediamo in finale baricentro basso attacco rapido l'Inter studia già la macchina City in arrivo più di 100 milioni dalla UEFA che possono aiutare anche in una campagna di rinforzamento il tesoro di Zhang l'Inter si fa ricca oltre 100 milioni adesso il marchio si vende meglio si potrà pensare a chiudere anche le trattative con il main sponsor il futuro di Steven ora è più sereno non deve sacrificare subito un pezzo pregiato e la coppa a tutti i costi con una spesa di un terzo rispetto al City vi aspetto ore 13 sport media siete poi stasera in live mi raccomando